Ogni giorno apriamo nuove strade, creiamo opportunità di sviluppo, sosteniamo la ricerca. Ogni giorno lavoriamo per custodire il passato, vincere nuove sfide, costruire il futuro. Ogni giorno ci cerchiamo, ci incontriamo per raggiungere nuovi traguardi, accompagnati dallo stesso sole. Settima conferenza Italia, America Latina e Caraibi. Per una visione comune. Grazie.